ciao benvenuto nella rubrica pd a le pillole di amazon oggi ti racconterò cosa è accaduto ad un seller che ha utilizzato una VPN per connettersi ad amazon seller center particolare la VPN è un sistema che permette di proteggere i tuoi dati quindi i dati che tu lasci durante la navigazione vengono criptati e sostanzialmente viene tutelata quella che è la tua privacy in te la VPN ti permette anche di far rilevare la tua connessione in un diverso luogo rispetto al tuo e questo permette di bypassare la censura in determinati appunto paesi del mondo ecco amazon sappiamo che traccia gli IP e in questo caso il seller quindi è possibile che utilizzando una VPN possa farsi registrare in Brasile dopo due ore in Messico dopo altre due ore in Thailandia ancora al giorno dopo in Italia questo amazon lo prende come un possibile tentativo di hackeraggio con qualcosa di sospetto e di conseguenza ti disattiverà l'account seller center o comunque ti chiederà delle informazioni ulteriori in particolare al seller veniva chiesto dove fosse residente chi altro accedesse all'account se fosse residente in Croazia in Italia in Brasile e di conseguenza tutte le informazioni relative all'utilizzo della VPN ecco io sconsiglio di utilizzare questo strumento per connettersi su amazon se proprio non ne puoi fare a meno ti consiglio di settare l'IP e la VPN all'interno di una nazione in modo che i tuoi accessi verranno rilevati sempre dal medesimo stato ciao e alla prossima pillola se ti è piaciuto questo video clicca mi piace e condividilo con i tuoi amici seguimi per restare sempre aggiornato e se hai dubbi o domande scrivime nei commenti ciao e al prossimo video